Il silenzio è importante, è un tempo di respiro e di comprensione, laddove nella vita siamo sempre rincorrendo una parola, cercando una argomentazione, provando ad avere ragione. Il silenzio è il momento in cui la sabbia si deposita nel lago, il momento in cui un uomo può distinguere ciò che dice l'altro, di ciò che uno sente, poco a poco, attraverso il silenzio emergerà la parola, se non c'è silenzio c'è solamente rumore. Grazie